Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e benvenuti o bentornati ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario. Calendario filosofico, ovviamente! Oggi è il 27 ottobre 2021 e la frase del giorno è questa. Lasciate che ve la legga. C'è chi crede che una cosa sia giusta perché l'ha sempre fatta, senza considerare che potrebbe sempre aver sbagliato. Di Walter Di Gemma, artista. Bellissima la frase di oggi, bellissima. La prima cosa mi viene da dire è per esempio il fascismo, per esempio il comunismo, per esempio la democrazia, per esempio il capitalismo, per esempio qualunque cosa. Qualunque cosa ripetuta diventa un'abitudine e poi le abitudini, se hanno un valore morale o non ce l'hanno, quindi se sono morali o immorali o amorali, è tutto un altro discorso. Fatto sta che qualunque cosa che diventa un'abitudine a un certo punto sembra che sia morale, senza che poi lo sia effettivamente, però sembra. Inizia a sembrare che sia normale. Questo perché noi esseri umani ci abituiamo a qualunque cosa. Per esempio ci si abitua soprattutto alla prepotenza, alla prepotenza e alla criminalità, allo sporco, all'inquinamento, al monopolio religioso, al tutto lo schifo che è tipico della società occidentale, tanto per dirne una. Così come poi nelle società non occidentali si abituano alla povertà, alla malattia, allo sporco. Voglio dire, se devo dire una sola cosa a cui ho visto la gente non abituarsi mai è il sottoscritto. A me non si è mai abituato nessuno, per questo mi hanno sempre rotto i coglioni. E non è che io sia un gran rompicoglioni, semplicemente esisto e semplicemente esistendo, a quanto pare rompicoglioni, sarà che il mio atto di respirare è semplicemente indicativo del fatto che gli altri non sanno neanche fare quello, respirare. Se poi le chiamano tecniche di respirazione, un motivo ci sarà probabilmente perché la maggior parte delle persone non ha idea di quello che sta facendo coi propri polmoni. E non mi riferisco ai fumatori, mi riferisco al semplice atto di respirare. E sì, insomma, c'è chi crede che una cosa sia giusta perché l'ha sempre fatta. Ma facciamo un esempio storico. Iniziamo a parlare come Barbero, come il professore Barbero, e torniamo pure noi al tempo dell'antica Roma. Ecco, dal tempo dell'antica Roma era cosa comune la crocifissione, ma anche la lotta in arena, fino a sopraggiunta morte. Ecco, voglio dire, era una cosa normale. Al di là del fatto che per l'antica Roma era una cosa normale, a livello sociale la guerra, perché oggigiorno per esempio siamo divisi in una massa, in un popolo, in una folla che dice che la guerra è sbagliata e poi siamo divisi dall'altra parte. C'è tutta quella parte dello Stato che effettivamente la guerra la fa. D'altra parte lo Stato, lo ricordo, è per definizione il monopolo, definizione che non ho fatto io, andate a cercare questa definizione, imparate chi l'ha fatta. Lo Stato è il monopolio della violenza su un territorio. Al di là di questo, appunto, c'è un popolo che è contro la violenza e poi uno Stato che di fatto esiste perché è il monopolio della violenza. Ecco, gli antichi romani nella vita comune non erano pacifisti, era appurato che la violenza faceva parte della natura umana. Adesso ci hanno traviato tutti i discorsi sulla natura umana, dicendo che la violenza non fa parte della nostra natura qui e lì e che quindi, insomma, se viene aggredito devi lasciarti ammazzare perché tanto poi la giustizia la può fare solo lo Stato e non devi neanche provare a difenderti da chi ti vuole morto. E si finisce così. E poi oggigiorno nella visione comune ha ragione solo chi prende le botte. Se poi prendi le botte e ti difendi hai automaticamente torto. Ecco, nell'antica Roma non c'era quest'idea perché ai tempi la violenza era una cosa nella quotidianità, nel diritto di tutti, si parlava tranquillamente di espansione militare. Al di là di questo c'era il circo, c'era appunto l'arena dove ci si ammazzava. L'arena era quel luogo fatto apposta per ammazzarsi e perché la morte fra due schiavi addestrati ad ammazzarsi fosse poi uno spettacolo, era semplicemente uno spettacolo per passarsi il tempo. E noi andiamo a vederci la gente che si ammazza per finta nei film, al cinema, gli antichi romani andavano a vedersi la gente che si ammazzava per davvero in arena. Cos'è cambiato? che adesso noi abbiamo sostituito la realtà con una illusione. Ed è una cosa che stiamo facendo su tutti i livelli dell'esistenza, un passo alla volta, e non c'è niente di male in questo, se non per il fatto che poi purtroppo si finge che non ci si debba difendere quando la situazione diventa reale. E quindi ecco l'abitudine. L'abitudine, cioè pure adesso oggigiorno, appunto io facevo questo esempio perché oggigiorno la violenza è il caso limite. La violenza è il caso limite nell'immaginario normale dell'individuo comune. Però abbiamo le prove storiche che la violenza, che adesso è il caso limite, non fosse il caso limite prima, che sia completamente una cosa completamente culturale, e che sì, ai tempi degli antichi romani la violenza poteva essere creduta come una cosa giusta perché la si era sempre fatta, senza considerare che potrebbe essere stata sempre sbagliata. Sicuramente oggigiorno siamo una società relativamente più pacifica perché nell'individuo comune non c'è quello stesso sentimento di violenza che c'era nei tempi passati, nelle società passate, nell'individuo comune. Oggigiorno la violenza la si sfoga nei videogiochi, sui blog, nei post di Facebook, e finisce lì. E finisce lì. Che a me mi pare una cosa incredibile che finisca lì, che la gente non vada sotto casa a cercarsi perché è scritto quella cosa. Mi pare incredibile. Ma, d'altra parte, lo ricordo, io sono calabrese e qui le cose sono rimaste per certi versi ai tempi dell'antica Roma. Quindi, insomma, su questa battuta, che non è neanche una battuta, ma è un dato di fatto, miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, grazie per l'attenzione, grazie per la visione. Se il video vi è piaciuto vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, e cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto, io come sempre, vi auguro il meglio e solo il meglio. E vi saluto fino al prossimo video. Ciao!